Allora nonna dopo il successo del tuo video vogliono sapere che ne pensi dei giovani d'oggi? Perché? Perché? Perché ha dato la prima capa di prima, dopo il mondo, e il giudice, vecchi, gli avvocati vecchi, i miei, e per ultimo i politici, che ora fanno massacri nei guardi e tutte le mani. Quindi una strage? Una rivoluzione, e vengono pure io. Vengono pure tu, tu in testa. E invece i maschi d'oggi, nonna, come sono i maschi di oggi? E cosa fai guardare? Che le femmini le gradiscono? E non sono più come all'epoca tua. Ma l'epoca mia aveva una maschera perché le femmini aveva messo il composto e non avevo tutte cose a fare. Quando uno si mangia sempre a carne, non può mangiare più. E quindi che succede? E basta. E vabbè. Sono i miei miei, perché io sono la nonna di Napoli e i turisti vengono a Napoli per trovare un uomo. E a chi trovano due? No, tutte vogliono. Non sono i miei 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 bambini e mi hanno avuto Se quattro o spavate da lei e li di noi, quello ti do farò gli Vabbè, allora saluto a tutti quanti Un bacione a nonna Ciao E datevi una paga, la vita è breve